Il centro anziani della Caritas nell'emergenza diventa punto di aiuto umanitario a sostegno del popolo ucraino. La raccolta di beni di prima necessità è stata promossa dalla diocesi di Avellino e dalla chiesa greco-cattolica. Stamane padre Roman ha fissato le bandiere dell'Ucraina e dell'Italia all'ingresso della struttura di Vienna Rum. All'interno del salone e del centro sono giunte le prime donazioni che saranno sperite già nelle prossime ore in Ucraina. Biscotti, latte, omogenizzati, farmaci, coperte. C'è bisogno urgente, soprattutto di medicine e kit sanitari per gli ospedali, raccomando i sacerdoti della chiesa ucraina. Impegnati a raccogliere i beni di prima necessità, i volontari della Caritas e alcuni giovani ucraini che frequentano la chiesa di Don Roman, residenti ad Avellino dove vanno a scuola, Vlad, Natalia e Oksana. Vlad racconta che i genitori sono a Ternopil e non vede l'ora di poterli riabbracciare. Quando chiama al telefono si avvertono sirene spiegate di ambulanze e rifugi da una televisione allestita nel salone. Arrivano le immagini in diretta del canale ucraino sugli scenari di guerra. Vlad ci fa seguire tramite il suo telefonino le drammatiche sequenze dell'ennesima giornata di guerra. La tensione viene in parte smorzata solo all'arrivo dei cittadini intenti a consegnare i beni. Alcuni anziani con le busse piene di confezioni di pasta appena acquistate in un centro commerciale si rivolgono ai ragazzi esprimendo solidarietà e vicinanza. Insieme alla pandemia viviamo un'altra guerra, siamo rinati dal terremoto dell'80, supereremo anche questa, commentano, stringendo d'affetto i giovani ucraini volontari nell'emergenza. Alponsina Nazaro, presidente del centro anziani Caritas, rievoca i tempi andati come la festa della zeppola e il carnevale in maschera. Sono ora tempi duri, aggiungiamo tutti insieme, ne usciremo e perché no celebraremo l'ennesima alba dopo la notte buia tremenda organizzando un evento insieme al popolo ucraino. Ora però sotto quelle donazioni l'emergenza non può purtroppo aspettare. Le persone stanno venute, stanno rispondendo, quello che chiediamo sono soprattutto cibo per neonati, per bambini, delle coperte e soprattutto kit di pronto soccorso, bende, farmaci da banco tipo antibiotici, antidolorifici, antipiretici. Vi chiedo un grande favore di portare già le cose in scatolate perché appena tutto ciò che ci donate e lo portate già in scatolato noi lo spediamo immediatamente senza poi dover fare i pacchi noi. Questo è quello che ci hanno chiesto e noi cerchiamo di fare. La Caritas in campo anche per queste emergenze? Sì, la Caritas in campo per queste emergenze abbiamo, noi centroanziani abbiamo messo a disposizione la struttura per tutta la famiglia ucraina che in questo momento ha bisogno non solo di tutte queste suppellettine ma soprattutto di sentirsi vicine, il calore del popolo irpino in questo caso. Questo carico quando raggiungerà l'Ucraina? Al più presto, anche per venerdì arriverà in Ucraina appena riusciamo a fare un carico completo in modo da poter dare le cose migliori che loro servono, le cose più impellenti.